Tesla arranca presso ai suoi stessi obiettivi. Il produttore d'auto elettriche ha mancato per il secondo trimestre consecutivo il target di consegne che si era prefissato, sollevando nuovi dubbi sull'adeguatezza dei suoi mezzi rispetto all'ambizione di erigersi a produttore mainstream. Ritardi nel trasporto e forte incremento negli ordini, le ragioni adotte per i deludenti numeri. I poco più di 14.300 veicoli consegnati nel secondo trimestre 2016, oltre 2.500 in meno rispetto alle aspettative, allontanano ora anche il target di consegne annuale.